Com'era piacevole tornare a casa. Il duplice compito di vendicatore e generatore di mondi affaticava non poco e lasciarsi poi festeggiare per ore dalla propria prole non era certo il riposo migliore. Stanco degli obblighi della creazione e della rappresentazione divina, il grande creneux aveva nostalgia delle gioie domestiche. Il suo cuore era un castello purpureo, giaceva in un deserto di pietra nascosto da dune circondata da un'oasi di fango e dietro sette mura di pietra. Si poteva raggiungere soltanto in volo. Possedeva mille stanze e mille cantine e mille eleganti salotti, uno dei quali era provvisto di un semplice divano purpureo sul quale creneux, che adesso non era più il grande creneux, bensì il creneux del tutto privato o semplicemente il caro Jean-Baptiste soleva riposare dalle fatiche del giorno. Ma nelle stanze del castello c'erano scaffali da terra fino al soffitto e là si trovavano tutti gli odori che creneux aveva raccolto nel corso della sua vita, molti milioni, e nelle cantine del castello c'erano botti che contenevano i migliori profumi della sua vita. Quando erano giunti a maturazione venivano travasate in bottiglie collocate poi in corridoi freschi e umidi lunghi chilometri, ordinate secondo l'annata e la provenienza, e ce n'erano tante che non bastava una vita per gustarle tutte. E quando il caro Jean-Baptiste, finalmente rientrato col suo chessua, si era steso sul suo semplice divano domestico nel salotto purpureo, aveva infine tolto gli stivali, per così dire, batteva le mani e chiamava i suoi servi che erano invisibili, impalpabili, impercettibili e inodori, cioè servi del tutto immaginari, e ordinava loro di recarsi nelle stanze e di prendere questo o quel volume della grande biblioteca degli odori e di scendere in cantina per portarli da bere. Si affrettavano i servi immaginari e lo stomaco di creneux si torceva in tormentosa attesa. D'un tratto si sentiva come un beone davanti al banco di Meshita, colto dalla paura che per qualche ragione gli possano rifiutare il bicchierino d'acquavito ordinato. Che cosa sarebbe accaduto se di colpo le cantine e le stanze fossero state vuote? E se il vino nelle botti si fosse guastato? Perché lo facevano aspettare? Perché non arrivavano? Aveva bisogno di quella roba subito, ne aveva bisogno con urgenza, la bramava. Sarebbe morto all'istante se non l'avesse avuta. Ma calma Jean-Baptiste, calma mio caro, verranno, porteranno ciò che desideri. I servi già arrivano in volo. Su un vassoio invisibile portano il libro degli odori, con mani invisibili, biancoguantate, portano le preziose bottiglie, le depongono con estrema cautela, si inchinano e scompaiono. E lasciato di nuovo solo, finalmente, Jean-Baptiste afferra gli odori desiderati. Apre la prima bottiglia, si mesce un bicchierino fino all'orlo, lo porta alle labbra e beve. Beve il bicchiere di odore fresco in un sol colpo ed è squisito, è così buono, così liberante, che il buon Jean-Baptiste ha gli occhi pieni di lacrime, di gioia e subito si mesce il secondo bicchiere di questo aroma. Un aroma dell'anno 1752, colto in primavera prima del tramonto sul Pont Royal, con il naso rivolto a ovest, da dove giungeva una leggera brezza afframmista di odore di mare, odore di bosco e lieve odor di catrame delle barche ormeggiate a riva. Era l'aroma di quella prima notte prossima alla fine che aveva trascorso a Parigi, vagabondando senza il permesso di Grimal. Era l'odore fresco del giorno che si avvicinava, della prima alba vissuta in libertà. Quell'odore allora gli aveva promesso la libertà, gli aveva promesso una vita diversa. L'odore di quel mattino, per Grenoel, era un odore di speranza. L'osservava con cura e ogni giorno ne beveva un poco. Dopo avere vuotato il secondo bicchiere svanirono tutti i suoi nervosismi, svanirono i dubbi e le incertezze e una quiete meravigliosa si impossessò di lui. Premette la schiena contro i soffici cuscini del divano, aprì un libro e cominciò a leggere nei suoi ricordi. Lesse degli odori della sua infanzia, degli odori della scuola, degli odori delle strade e degli angoli della città, degli odori umani. Ed era scosso da brividi piacevoli, perché erano proprio gli odori odiati, quelli che aveva scacciato a essere evocati. Con interesse e ripugnanza, Grenoel reggeva nel libro degli odori disgustosi e quando l'avversione prevaleva sull'interesse si limitava a chiudere il libro. Lo metteva via e ne prendeva un altro. Nel frattempo beveva senza tregua nobili aromi. Dopo la bottiglia con l'aroma della speranza, ne stappò una dell'anno 1744, piena del caldo odore del legno che si trovava davanti alla casa di Madame Guillard. E dopo questa beve una bottiglia di un aroma di sere estiva, carico di profumi e olezzante di fiori, raccolto al margine di un parco a Saint-Germain-des-Prés, anno 1753. Adesso era traboccante di profumi. Le sue membra affondavano sempre più nei cuscini. Il suo spirito si inebriava meravigliosamente e tuttavia non era ancora giunto alla fine del banchetto. In verità i suoi occhi non riuscivano più a leggere. Da tempo il libro gli era scivolato dalle mani, ma non voleva concludere la serata senza avere prima votato l'ultima bottiglia. La più squisita era l'aroma della fanciulla, di Rue des Marais. Lo beve con raccoglimento e a tale scopo si mise ritto sul divano, sebbene ciò gli costasse fatica, perché a ogni movimento il salotto purpurio oscillava e girava attorno a lui. In atteggiamento da scolaro, le ginocchia premute a lui, una contro l'altra, i piedi uniti e la mano sinistra appoggiata sulla coscia sinistra, così il piccolo Grenoy beveva l'aroma più prezioso delle cantine del suo cuore, un bicchiere dopo l'altro e nel frattempo divenne sempre più triste. Sapeva che stava bevendo troppo, sapeva che non avrebbe sopportato tanta bontà e tuttavia beve fino a vuotare la bottiglietta. Attraversò il passaggio buio che dalla strada portava al cortile interno, si diresse verso la luce. La fanciulla era seduta e apriva le mirabelle come nel coltello. Da lontano esplodevano i razzi e i petardi dei fuochi d'artificio. Depose il bicchiere e restò seduto ancora qualche minuto, come impietrito dal sentimentalismo e dall'ubriachezza fino a che anche l'ultimo residuo di sapore scomparve dalla sua lingua. Guardava con occhi fissi dinanzi a sé. D'un tratto il suo cervello si era svuotato come le bottiglie, poi si rovesciò di lato sul divano purpurio e piombò da un momento all'altro in un torbido sonno. Nello stesso momento anche il grenioide esterno si addormentò sulla sua coperta da cavallo. Il suo sonno fu altrettanto profondo quanto quello del grenioide interno, perché le imprese Ercule e gli eccessi di quest'ultimo avevano sfinito allo stesso modo anche l'altro, dopo tutto entrambi erano sempre la stessa e unica persona. In ogni modo, quando si svegliò, non si svegliò nel salotto purpureo del suo castello, purpureo, dietro le sette mura e neppure nelle contrade profumate di primavera della sua anima, bensì soltanto nella segreta di pietra alla fine del tunnel, sulla dura terra e nell'oscurità. e si sentiva malissimo, per la fame e la sete e infreddolito e miserabile, come un beone incallito dopo una notte trascorsa in gozzoviglie. Strisciò fuori dalla galleria Carponi. Fuori era un'ora qualsiasi del giorno, forse l'inizio o la fine della notte, ma anche a mezzanotte la chiarità della luce siderale trafigeva i suoi occhi come una punta di spillo. L'aria gli sembrava polverosa, pungente, gli irritava i polmoni, il paesaggio era duro. Grenoie inciampava contro le pietre e anche gli odori più delicati sembravano acri e corrosivi al suo naso disabituato al mondo. Grenoie, la zecca, era divenuto sensibile, come un granchio che ha lasciato il suo guscio e di notte vaga per il mare. Si diresse verso il punto dell'acqua, leccò l'umidità della parete per una, due ore. Era una tortura. Il tempo non passava mai. Quel tempo in cui il mondo reale gli bruciava la pelle. Strappò qualche brandello di muschio dalle pietre. L'onghiottì di furia. Si accucciò. Cagò mentre mangiava. In fretta, in fretta. Tutto doveva accadere in fretta. E come se fosse stato un piccolo animale dalla carne tenera e in cielo stessero già volando in cerchio i rapaci, tornò di corsa la sua caverna e si inoltrò sino alla fine della galleria, dove c'era la sua coperta da cavallo. Qui, finalmente, era di nuovo al sicuro. Si appoggiò contro il cumulo di detriti. Allungò le gambe attese. Ora doveva tenere il corpo totalmente immobile. Immobile come una botte che per un troppo movimento rischia di traboccare. A poco a poco riuscì a dominare il respiro. Il suo cuore agitato prese a battere più lento e l'onda interna di marea si placò lentamente. Ed un tratto la solitudine calò sul suo animo come una nera superficie di specchio. Chiuse gli occhi. La porta oscura del suo io si spalancò ed egli vi entrò. La successiva rappresentazione del teatro interiore di Grenoy ebbe inizio. Così avvenne giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese. Così avvenne per sette anni interi. Durante questo periodo nel mondo esterno c'era la guerra e precisamente una guerra mondiale. Si combatté in Slesia e in Sassonia, ad Hannover e nel Belgio, in Bohemia e in Pomerania. Le truppe del re morirono nell'Esse e in Vestfalia, nelle Baleari, in India, nel Mississippi e nel Canada. Quando non erano già morte di tifo durante il viaggio d'andata. La guerra costò la vita di un milione di uomini. Al re di Francia costò il suo impero coloniale e a tutti gli stati partecipanti tanto denaro che essi infine col cuore oppresso decisero di porvi termine. Durante questo periodo, una volta d'inverno, Grenoy stava per morire congelato senza accorgersene. Restò cinque giorni nel salotto purpureo e quando si svegliò nella galleria non riusciva più a muoversi dal freddo. Richiusi subito gli occhi per dormire fino alla morte. Ma poi ci fu un improvviso aumento della temperatura che lo sgelò e lo salvò. Una volta la neve era così alta che non ebbe più la forza di trascinarsi fino ai licheni. Allora si nutrì di pipistrelli congelati. Un'altra volta un corvo morto giaceva davanti alla grotta. Mangiò anche quello. Furono gli unici avvenimenti del mondo esterno di cui prese conoscenza in sette anni. Per il resto visse soltanto della sua montagna, soltanto del regno della sua anima da lui stesso creato e sarebbe rimasto là fino alla morte, poiché nulla gli mancava, se non si fosse verificata una catastrofe che l'avrebbe scacciato dalla montagna e risputato nel mondo. La catastrofe non fu un terremoto, né un incendio del bosco, né una frana, né un crollo della galleria. Non fu affatto una catastrofe esterna, bensì interna e quindi tanto più grave in quanto bloccò la via di scampo privilegiata di Grenoy. Avvenne nel sonno, per meglio dire in sogno o piuttosto nel sogno del sonno nel cuore della sua fantasia. Era disteso sul divano nel salotto purpurio e dormiva. Intorno a lui c'erano le bottiglie vuote. Aveva bevuto enormemente, alla fine addirittura due bottiglie del profumo della fanciulla dei capelli rossi. Probabilmente era stato eccessivo perché il suo sonno, per quanto di una profondità simile alla morte, questa volta non fu privo di sogni, bensì pervaso da scie di sogni spettrali. Queste scie erano tracce chiaramente riconoscibili di un odore. Dapprima passarono sotto il naso di Grenoy in traiettorie sottili, poi divennero più dense, come nubi. Adesso era come se si trovasse in mezzo a una palude da cui saliva la nebbia. La nebbia saliva lenta sempre più in alto. Presto Grenoy fu completamente avvolto dalla nebbia, intriso di nebbia, e tra i vapori della nebbia non c'era più un filo d'aria pura. Se non voleva soffocare doveva respirare questa nebbia. E la nebbia era, come si è detto, un odore. E Grenoy sapeva anche quale odore. La nebbia era il suo odore personale. L'odore personale di lui, di Grenoy, questo era la nebbia. E ora la cosa più spaventosa era che Grenoy, sebbene sapesse che questo odore era il suo odore, non riusciva a sentirlo. Totalmente sommerso dal suo sé, per nulla al mondo, non riusciva a sentire il proprio odore. Quando lo capì con chiarezza, dette in un grido terribile, come se stesse bruciando vivo. Il grido fece crollare le pareti del salotto purpureo, le mura del castello, gli uscì dal cuore e attraversò fossati e paludi e deserti. Imperversò per il paesaggio notturno della sua anima come una tempesta di fuoco. Tuonò dalla sua bocca attraverso la tortuosa galleria e risuonò fuori, nel mondo, lontano, oltre l'altipiano di Saint-Fleur, come se la montagna stessa gridasse. E Grenoy si svegliò al proprio grido. Mentre si svegliava, annaspò furiosamente attorno a sé, come se avesse dovuto scacciare la nebbia invisibile che voleva soffocarlo. Era spaventato a morte, tremava da capo a piedi, di pura angoscia mortale. Se il grido non avesse lacerato la nebbia, sarebbe annegato in esso una morte atroce. Gli venivano i brividi a ripensarci. E mentre era ancora seduto, tremante, e cercava di radunare i suoi pensieri, confusi e angosciati, sapeva già una cosa con certezza assoluta. Avrebbe cambiato vita. Fosse anche solo per non sognare un sogno così atroce una seconda volta. Non avrebbe retto una seconda volta. Si gettò sulle spalle la coperta da cavallo e strisciò fuori all'aperto. Fuori era giusto mattina. Una mattina di fine febbraio. Il sole splendeva. La terra sapeva di pietra umida, di muschio e d'acqua. Il vento portava già con sé un lieve profumo di anemoni. Davanti alla caverna si accucciò a terra. La luce del sole lo scaldava. Inspirò l'aria fresca. Rabbrividiva ancora, pensando alla nebbia a cui era sfuggito, ed ebbe un fremito di piacere quando sentì il calore sulla schiena. Era pur bello che questo mondo esterno continuasse a esistere, fosse anche soltanto come punto di fuga. Inconcepibile l'orrore. Se all'uscita dalla caverna non avesse più trovato un mondo. Non una luce, non un odore, nulla di nulla. Soltanto quell'orribile nebbia. Dentro, fuori, ovunque. A poco a poco lo shock passò. A poco a poco la morsa dell'angoscia si allentò e Grenoy cominciò a sentirsi più sicuro. Verso mezzogiorno aveva riacquistato il suo sangue freddo. Mise sotto il naso il dito indice e il medio della mano sinistra, e respirò attraverso il dorso delle dita. Sentì l'aria di primavera, umida e sapida di anemoni. Dalle proprie dita non sentì provenire odore. Girò la mano e fiuttò il suo lato interno. Avvertì il calore della mano, ma non sentì alcun odore. Allora si rimboccò una manica della camicia e affondò il naso nell'incavo del gomito. Sapeva che questo era il punto in cui tutti gli esseri umani hanno odore di sé. Tuttavia non sentì odore alcuno, non sentì nulla, neppure sotto la sua scella, nulla sui piedi, nulla sul sesso, verso il quale si chinò per quanto poteva. Era grottesco. Lui, Grenoy, che riusciva a fiutare qualsiasi altro essere umano a distanza di miglia, non era in grado di sentire l'odore del proprio sesso a distanza di meno di una spanna. Ciò nonostante, non si lasciò prendere dal panico, ma riflettendo con calma, disse a se stesso. Non è che io non abbia odore, perché tutto è un odore. Piuttosto non sento l'odore che ho, perché da quando sono nato ho sentito il mio odore ogni giorno e quindi il mio naso è diventato insensibile al mio odore personale. Se potessi separare da me il mio odore, o almeno una parte di esso, e tornare ad annusarlo dopo un certo periodo di disassuefazione, riuscirai a sentirlo e quindi a sentirmi perfettamente. posò a terra la coperta da cavallo e si tolse i vestiti, o perlomeno ciò che ancora era rimasto dei suoi vestiti, i brandelli, gli stracci. Non se li era tolti di dosso per sette anni, dovevano essere impregnati del suo odore da cima a fondo. Li ammucchiò l'uno sull'altro davanti all'ingresso della caverna e si allontanò. Poi per la prima volta dopo sette anni risalì di nuovo sulla cima della montagna. Là si fermò di nuovo nello stesso punto in cui si era fermato un tempo al suo arrivo. Volse il naso a oveste e lasciò fischiare il vento attorno al suo corpo nudo. E la sua intenzione è esporsi tutto all'aria, impregnarsi totalmente del vento dell'ovest, il che significava dell'odore del mare e delle praterie umide, in modo tale che esso prevalesse sull'odore del suo corpo e quindi potesse crearsi un dislivello olfattivo tra lui, Grenoilles e i suoi vestiti, che lui poi avrebbe potuto percepire chiaramente. E affinché al suo naso arrivasse la minima quantità possibile del suo odore, chinò in avanti la parte superiore del corpo, allungò il collo per quanto poteva nella direzione del vento e stese le braccia all'indietro. Aveva l'aspetto di un nuotatore che sta per buttarsi in acqua. Rimase immobile parecchie ore in questa posizione estremamente ridicola, per cui la sua pelle, disabituata al sole bianca come quella di un verme, benché il sole fosse debole, si colorò di un rosso aragosta. Verso sera ridiscese in direzione della caverna. Già da lontano vide il mucchio dei suoi vestiti. Durante gli ultimi metri si turò il naso e lo stappò di nuovo soltanto dopo averlo abbassato a contatto del mucchio. Provò ad annusare come aveva imparato da Baldini, inspiro l'aria in un colpo e la lasciò uscire a tappe. Per trattenere l'odore mise entrambe le mani a campana sopra i vestiti e in essa affondò il naso come fosse un batacchio. Fece tutto il possibile per tirare fuori il proprio odore dei vestiti. Ma lì il suo odore non c'era. Decisamente non c'era. C'erano mille altri odori. Odore di pietra, di sabbia, di muschio, di resina, di sangue, di corvo. Li percepiva ancora con chiarezza persino l'odore della salsiccia che aveva acquistato anni prima vicino a Sayy. I vestiti contenevano un diario olfattivo degli ultimi anni sulla montagna. L'unica cosa che non contenevano era il suo odore personale. L'odore di colui che nel frattempo li aveva portati ininterrottamente. Allora cominciò a provare una certa ansia. Il sole era tramontato. Stava ritto, nudo, accanto all'ingresso del tunnel, nel cui fondo buio aveva vissuto per sette anni. Il vento soffiava gelido e aveva freddo, ma non si accorgeva di aver freddo perché in lui c'era il contrario del freddo, cioè la paura. Non era la stessa paura che aveva provato in sogno, quella paura atroce dell'essere soffocato da se stesso, che bisognava scuotersi di dosso a ogni costo, a cui era riuscita a sfuggire. Ciò che provava adesso era la paura di non conoscere bene se stesso. Era l'opposto dell'altra paura. Ad essa non poteva sfuggire, doveva invece affrontarla. Doveva sapere senza alcun dubbio, anche se questo riconoscimento era terribile, se possedeva un odore oppure no, e doveva saperlo immediatamente, subito. Si inoltrò di nuovo nella galleria. Già dopo pochi metri fu circondato dalla totale oscurità, ma si trovò a suo agio come in piena luce. Aveva percorso la stessa via migliaia di volte. Conosceva ogni passo e ogni curva. Riconosceva l'odore, ogni punta rocciosa, pendente e ogni minima sporgenza di pietra. Trovare la via non era difficile. Difficile era lottare contro il ricordo del sogno claustrofobico che saliva in lui sempre più come l'onda di una marea man mano che procedeva. Tuttavia si faceva coraggio. O meglio, con la paura di non sapere e combattere la paura di sapere. E la superava, perché sapeva di non avere scelta. Quando giunse alla fine della galleria, là dove si ergeva il cumulo di detriti, entrambe le paure lo abbandonarono. Si sentiva tranquillo. La sua mente era del tutto lucida e il suo naso aguzzo come uno scalpello. Si accucciò a terra, coprì gli occhi con le mani e annusò. In questo luogo, in questa tomba di pietra lontana dal mondo, aveva vissuto disteso per sette anni. Se un luogo al mondo poteva sapere di lui, doveva essere questo. Respirò lentamente. Verificò con attenzione. Si prese tempo per giudicare. Rimase accucciato per un quarto d'ora. Aveva una memoria infallibile. Sapeva con certezza quello che avevano usato sette anni prima nello stesso punto. Odore di pietra e di frescura umida e salata e così pura che nessun essere vivente né uomo animale poteva mai essere arrivato in quel luogo. Esattamente l'odore di adesso. Rimase accucciato ancora per un poco, molto tranquillo, annuendo soltanto livemente con il capo. Poi si girò e andò verso l'esterno, dapprima curvo, poi, quando l'altezza della galleria lo permise, in posizione retta. Fuori, indossò i suoi stracci. Le sue scarpe erano marcite già da anni. Si mise sulle spalle la coperta da cavallo e quella stessa notte abbandonò il plomb du chantal dirigendosi a sud.